Il 6 maggio 2014, grazie alle somme restituite dai 14 portavoce Lars del Movimento 5 Stelle, nasce ufficialmente il Fondo di Garanzia per il Microcredito, uno strumento destinato a quelle imprese che non riescono ad ottenere un finanziamento senza una garanzia personale. Possono accedervi micro, piccole e medie imprese che abbiano una sede legale in Sicilia e che non superano i 2 milioni di euro di fatturato. La restituzione del prestito può avvenire in 8 anni e la somma massima erogabile è di 25 mila euro. Per accedervi basta andare sul sito www.sicilia5stelle.it, cliccare il banner Microcredito e seguite le istruzioni alla pagina, verrai subito contattato da Banca Etica per presentare la documentazione necessaria per l'erogazione del fondo.